I suoi competitor, in particolare Massimo Romano, l'accusano dicendo che nella sua coalizione ci sono partiti e movimenti che hanno forti interessi nella sanità e questo non le permetterà di intervenire nelle convenzioni tra pubblico e privato. Come risponde? Io ho un competitor che si chiama Michele Iorio che guida una coalizione di centro-destra. È l'unico competitor che ho rispetto al quale sono convinto che i cittadini, come già avevano fatto un anno e mezzo fa, ci daranno grossa soddisfazione. Il resto al sapientino di turno né lo considero né ho intenzione di perdere ulteriore tempo rispetto alle sue fantomatiche illazioni. Capisco il suo nervosismo, capisco il flop che sta toccando ogni giorno con mano. Vado avanti e gli unici veri arbitri della nostra proposta saranno i cittadini che con il loro consenso ci daranno la possibilità di dimostrare con i fatti come il centro-sinistra governerà la regione Molise.